Ciao, oggi sono a fa' un matrimonio e mi c'ho qualcosa di fresco di salutare, una bella macedonia se credeci. Apriamo sto bel cocomberetto, piccolino piccoletto, giusto per me. Mo lo scavamo ma senza fronzoli eh. Lo tagliamo a pezzetti più piccoli, se no non c'entra più niente. Abbiamo questo il lime melon, un melone a lime. Una figata. Lo spacchiamo. Vedi com'è bianco dentro? E fa' un maccobetti pure questo. E mo tocca alla nanasso. A quadratini pure lei. E ci mettiamo qualche bel lampone per il colore. Ora rinfilamo dentro tutto. Ma se poi durante il trasporto me se sciabbacolo e me casca tutta? Toccherà mettere qualcosa in questi bei buchetti. E cosa meglio di un bel gin julep? In un pentolino un po' di zucchero di canna. E un bel po' di gin eh. E poi ci mettiamo giù la gar a gar. La mettiamo sul fuoco ma non fa' debbullire tanto se no evapora tutto l'alcol. Se evapora l'alcol che ce l'hiamo messo a fa'. E ora in infusione qualche foglia di menta. Le togliamo. Aggiungiamo tutto al nostro cocommeretto fino a pienarlo come se non ci fosse un domani. Coprimo per non fargli pia freddo. E via in frigo per l'oretta minimo. Le sentite? Le mie amiche cicale hanno detto che è ora che lo maniamo il cocommero. Tanto qui ancora non è arrivato nessuno. Sarà venuto bene? E mo lo tagliamo. Voila. Tagliamo i fettiri più piccoli perché ne sennò se embriagamo guardate che spettacolo. E poi lo maniamo e se embriagamo. Mmm. Frescoloso.